L'operazione di oggi è la risposta che l'arma dei Carabiniere ha dato a parenti e amici di un 40enne torionovese che nell'agosto 2017 è morto improvvisamente per presunte cause naturali. Le attività serrate svolte dai Carabiniere Compagnia di Torionova hanno fatto luce su una fitta rete di soggetti che commerciavano e somministravano farmaci anabolizzanti e superfacenti a una grande platea di atleti, sia amatoriali che professionisti, e che venivano incoraggiati a consumare queste sostanze per o migliorare l'aspetto fisico in breve tempo, oppure gareggiare con più efficacia in queste competizioni sportive.